. Diretta Lazio-Salisburgo oggi in chiaro su TV8 e streaming, ecco dove seguirla. Prosegue l'appuntamento con l'Europa League 2018 e oggi 5 aprile sono in programma le partite valide per i quarti di finale di andata della competizione calcistica. . L'unica squadra italiana che prosegue il suo cammino in Europa League in questo momento è la Cancelletto Lazio, dopo che il Milan è stato fatto fuori così come il Napoli. . Ecco allora che i biancocelesti rimangono gli unici in gara a proseguire il percorso e questa sera dovranno vedersela contro il Salisburgo. . 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